e che c'è qua bello a tutti dal vostro gabbo man siamo tornati su pes 2016 perché oggi facciamo un video diverso dal solito se vi ricordate bene l'altro giorno ho fatto un video in cui facevo vedere che svincolavo determinati top player per allenare cristiano ronaldo e quindi per portarlo velocemente a livello 50 tra i tantissimi commenti che mi avete fatto ce n'è stato uno che poi è stato ripetuto più volte anche da altri in cui chiedevate che cosa succede se alleno un giocatore con se stesso che cosa significa cioè se io adesso per esempio prendo cristiano ronaldo lo trasformo in allenatore lo ripesco con gli agenti champions e lo alleno con se stesso c'è chi dice che ronaldo arriva direttamente al 50 c'è chi dice che ronaldo prende come minimo 10.000 punti esperienza c'è chi dice che scoppia la playstation allora ragazzi facciamo una cosa ce provamo e vediamo quello che succede in teoria non succede niente di che nel senso il giocatore verrà allenato però non si sa con quanti punti esperienza ovviamente non mi conviene farlo con ronaldo perché ce l'ho a livello 43 se lo trasformi in allenatore lo ripesco al 30 io non credo che dal livello 30 possa tornare al 43 con una botta unica d'allenamento però c'ho parecchi giocatori ancora a livello 30 top player che vorrei far arrivare velocemente a livello 50 se andiamo a gestione squadra io stasettimana mi sono fatto la coppa challenge offline e ho vinto un altro argentino mi hanno regalato la gente speciale l'altro giorno quindi praticamente c'ho due agenti champions gratuiti l'idea era quella di trasformare in allenatore griezmann agguero e bale e naturalmente ripescarli e riallenarli con se stessi vediamo quello che succede ma soprattutto quanti livelli guadagnano quindi ragazzi prima di far questo vi voglio far vedere una cosa che forse vi toglierà qualche dubbio sapete che ho sbancato la gente champions però se vado a contratto io ho fatto le competizioni offline ragazzi è ricomparso guardate che roba mi dà lo 0% in tutto però me lo dà ancora due volte questo che significa che se io pesco adesso naturalmente non me da non me dovrebbe da niente non mi conviene farlo prima trasformi il giocatore in allenatore e poi me faccio lo spacchettamento quindi allora andiamo a gestione squadra naturalmente andiamo su griezmann premo quadrato faccio converti in allenatore stai per convertire griezmann in allenatore vuoi se sì lo voglio assolutamente converti eccolo qua è diventato un allenatore seconda punta con 88 e va bene facciamo lo stesso discorso con agguero quindi che ne so converti in allenatore dai e così stai per convertire agguero in allenatore sì va benissimo così e stiamo a due e mo lo voglio fa anche con gareth bale quindi ancora una volta converti in allenatore stai per convertire gara sì voglio farlo pure con lui bene così ragazzi ho trasformato tre giocatori fondamentali in allenatore adesso che cosa dobbiamo fa ovviamente li dobbiamo prima ripescare quindi andiamo a contratto come facciamo di solito andiamo a uefa champions league stars sf ancora due volte io direi di pagà con gp no pagà due agenti gratis però il terzo lo dovrò pagà con gp eccolo qua ma sicuramente non so io chi può uscire può uscire calimero può uscire qualsiasi cosa vediamo un attimo allora le corsette ci stanno la capoccia questa è la guero l'ho riconosciuto a ciavattella quindi aspettiamo le corsette le pecorine tutto quello che ci pare eccolo qua questo ovviamente è a livello 30 lo mando avanti velocemente perché vabbè non è che c'è sta molto da guardare lo sapete aggiungo velocemente a membri my club lo rifaccio ancora una volta ingaggia il giocatore continua mo o è griezmann o è bale non è che c'è stanno storie schiaccio se ferma sul pallone nero come al solito eccolo chissà chi cazzo è questo non lo so non me l'aspetto il tiro lo stop questo ovviamente è gareth bale quindi aspettiamo pure quest'altro che finisce le corsette eccolo qua lo confermo lo mando avanti aggiungendolo ai membri my club e mo c'ha una mappesca griezmann quindi uefa champions league mo devo cacciare i gp ma non me ne frega niente sinceramente anche perché griezmann è uno dei giocatori che voglio portare il più in alto possibile come minimo a livello 45 perché è uno dei miei giocatori preferiti le palle girano se si fermano eccolo qua questo vabbè ovviamente che vodica fa cioè sicuramente è griezmann quindi il dribbling eccolo che stoppa da capoccia se a pecorella manco che c'è fosse il necrone dietro guarda un po chi cazzarola è è griezmann lo mando avanti velocemente aggiungendolo ai membri my club e mo se divertimo voglio vedere che cosa succede allora magari arrivassero tutti al 50 sarebbe una cosa di quelle spettacolari allenamento elenco allenatori stava di elenco allenatori va bene allora sp 88 ovviamente griezmann quindi mo devo andare a cercare vediamo un attimo aspettate che non è facile perché comunque c'ho parecchi giocatori quindi salai jacofal che quello quell'altro la nonna la zia i nipoti il cognato cazzo sta non lo trovo eccolo qua ce l'ho fatta ragazzi allora come vedete alla prolifica atletico madrid francese è lo stesso giocatore quindi lo vado ad allenare sto richiedendo un allenamento per griezmann al termine dell'allenamento il allenatore lascerà il club si vediamo che succede mo dovrebbe che schifezza cioè praticamente ha ottenuto solamente due livelli quindi non è vero quello che dite ragazzi qualcuno di voi mi ha detto che ronaldo arriverebbe al 50 eppure è vero che questo non è cristiano ronaldo è però allenato con se stesso praticamente mi ha dato due livelli quindi dal 30 è passato al 32 mo però l'esperimento sta nel guarda che cosa succede con gli altri giocatori perché io non credo che bella allenato con se stesso da soltanto un migliaio di punti esperienza quindi vado avanti allora mo quale cazzo è gareth bale è questo quindi lo vado a cercare scusate un attimo aspettate che lo trovo la cazzetta e il charawi e suarez e se eccolo qua allora il prossimo livello è tra 512 punti mi assicuro che è lo stesso giocatore ma mi sembra quindi alleno gareth bale con gareth bale vediamo quanti viene da 1958 ragazzi sempre due livelli è salito per fortuna che non v'ho dato retta e non ho scartato ronaldo perché se no erano cazzi amari cioè praticamente con giocatore al 43 allenavo un giocatore al 30 che mi arrivava al 32 comunque vedo che mancano solo 346 punti esperienza al prossimo livello quindi diciamo che ha preso quasi tre livelli gareth bale bene così mando avanti pure lui e mo ce provamo co agguero ma pressa poco come sembra quello comunque il risultato finale eh ci siamo levati in dubbio comunque era una cosa che volevo fa anche perché c'avevo gli agenti gratis sergio agguero sta richiedendo un allenamento per sergio agguero naturalmente co agguero vediamo quanto cazzo pia 1958 è salito dei due livelli eppure questo gli mancano circa 350 punti esperienza a livello successivo quindi ragazzi secondo me se ci avete in cristiano ronaldo come minimo a livello 40 non vi conviene mandarlo via per poi riallenarlo con se stesso perché tanto non ottiene tantissimi punti esperienza spero che vi ho tolto tutti i dubbi del caso quindi se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video di PES 2016 e il gabore vi saluta bello a tutti regà ciao ciao